So this is crazy, e che ci vuoi far, il governo è caduto, e l'altro fa pietà. E per rimere crisi, e dai eppini uici, ma non solo la casa, e neanche gli amici. Ma questa è la crisi, non c'è da mangiare, fai pure i regali, ma vatti a sparare. Muori solo come un cane, muori solo, è Natale. Buon 2012 a tutti!